Bentornati in questo nuovo podcast, è proprio la visione di un film che ho fatto in questi giorni, che è Malcolm & Marie, ha dato libero sfogo a questo nuovo podcast in cui parleremo veramente tanto di questa attrice. Lei è Zendaya Marie Stormer Coleman, nota semplicemente come Zendaya. Zendaya che nella lingua dello Zimbabwe significa ringraziare, lo ha detto lei attraverso un'intervista. Zendaya è un'attrice e cantante statunitense, nata il 1 settembre a Oakland nel 1996, quindi un'attrice molto molto giovane e molto molto brava come vedremo. Io vorrei partire dalla fine della carriera di Zendaya, ovvero ai giorni nostri, perché proprio in questi giorni ho visto un film che è su Netflix, che prende il nome di Malcolm & Marie. Allora, in Malcolm & Marie ci sono solo due attori in scena, e tutta la pellicola è basata su un conflitto interno tra i due personaggi, con David Washington, che è il figlio di Denzel Washington, che interpreta un regista e la sua compagna nonché attrice, ma anche un ex tossico dipendente. I due personaggi sono appena tornati dalla messa in scena della prima visione del film del regista e l'interpretazione dei due personaggi raggiunge cime incredibili. Gli attori in questo caso, proprio, dobbiamo dirlo, effettivamente indossano le mutande del personaggio e investono la cinepresa quasi spaccando continuamente la quarta parete per le parole, per la sceneggiatura come è stata scritta. La cinepresa, con interpretazioni che sono per la maggior parte vere e affascinanti. Nessuno dei due attori cede il passo definitivamente all'altro, e questa è una cosa molto bella da vedere, perché nessuno va a sovrastare l'altro, sono abbastanza posati e abbastanza decisi ognuno nelle loro interpretazioni. È una lotta senza sosta questo dialogo a priori prese, impedendo praticamente all'altro di poter prendere fiato. La sceneggiatura poi all'interno del film è una delizia per i palati più fini e la fotografia è istintivamente una scelta corretta, perché richiama un'atmosfera abbastanza noir e ricorda a tutti il recentissimo film Storia di un matrimonio, anche se si discossa da questo per le tematiche e per la diluizione della lite, perché quella è una lite che avviene attraverso i mesi, forse addirittura anni, qua la lite viene diluita in una notte, praticamente, il giorno dopo. È tutto completamente diverso e lo vedrete vedendo il film, perché il conflitto si basa essenzialmente su quello. Zendaya in questo film credo che abbia attuato una delle sue performance più vere e affascinanti che ci siano mai state. Facciamo presente che ancora Zendaya la dobbiamo vedere in Dune, che si promette di essere il nuovo colossal della cinematografia dei prossimi anni, con un cast pazzesco e sono curioso di vederla anche lì. Zendaya in questo film, Malcolm & Mary, è guidata dalla regia dello stesso direttore della serie HBO Euphoria o Euphoria, che la vede protagonista ed è uscita nel 2009 non solo, è anche produttrice esattamente di questa serie, come del film Malcolm & Mary. L'interpretazione di Zendaya all'interno di questa pellicola, discostandoci un attimo da David Washington, è carnale, fascinosa, è credibilissima in ogni aspetto e ovunque ti giri quando la vedi. Ogni pausa, ogni respiro mostra la sua bravura nella sua interezza. Per questo dobbiamo dire che sono effettivamente finiti i tempi in cui si dedicava ai film, o alle canzoni disneyane e i suoi stereotipi nella commedia teen. Perché come inizia la carriera di Zendaya? Inizialmente inizia la sua carriera come modella per alcuni brand, ma anche come cantante e come ballerina, prima di iniziare con i film Disney. Perché i film Disney comunque per la televisione, perché poi vedremo qual è il suo esordio definitivo al cinema. Allora, per la televisione registra il film Nemici per la pelle, ma ha acquisito maggior popolarità a partire dal 2010, perché ha fatto una serie tra il 2010 e il 2013, che prende il nome della sitcom a tutto ritmo, dove ballerina, cantante, cioè si dimostra in tutti i suoi aspetti. Io non appartengo a questa generazione, io per lo più mi avvicino alla generazione Disney, non so di Zack e Cody al Grand Hotel, per esempio, o di Raven, e quindi sono abbastanza lontano, io non ho mai conosciuto Zendaya per i suoi prodotti disneyani. Ma la prima volta, il primo ricordo che io ho di Zendaya all'interno del cinema, addirittura non è neanche con Spider-Man, ma è con cui lei fa l'esordio, con Spider-Man Uncoming, perché lei è la nuova Mary Jane della saga Sony Marvel del piccolo ragno del Bronx, del grande o piccolo ragno del Bronx, lei interpreta la nuova Mary Jane, una Mary Jane veramente atipica rispetto alle altre a cui siamo stati abituati, e ha fornito delle buone, buonissime interpretazioni, proprio nel ruolo di Mary Jane, con Spider-Man Uncoming e Spider-Man Far From Home. Però il primo ricordo che ho, dicevamo, è all'interno di un musical, io adoro questo musical, è sicuramente il musical moderno che ha segnato un nuovo modo di confrontarsi con il pubblico, e sicuramente ha avuto un successo pazzesco, soprattutto perché molti dei brani contenuti all'interno di questo musical sono diventati veri e propri singoli, e a livello discografico hanno venduto tantissimo. Ed è The Greatest Showman, a fianco di Zac Efron, lei ha un duetto molto bello con Zac Efron, con la canzone Revride the Star, e lavora molto bene sotto questo aspetto, mi piace molto, lei si riesce a muoversi, a deliziarci in tutti gli aspetti. Prima ancora di diventare una star Disney o un'attrice cinematografica con i film su Spider-Man, con i musical, Zendaya ha registrato dei brani. Ha iniziato la sua carriera musicale registrando canzoni in modo indipendente, pubblicando i due singoli, che sono usciti nel 2011 discograficamente, e sono Swag It Out e Watch Me. E allora in quest'ultima collaborazione c'è una lavora con Bella Thorn, ad oggi credo che sia conosciuta come la fidanzata, praticamente di uno di Benji e Fede, credo Benji, non lo so, quindi anche l'Italia all'interno di tutto questo contesto. Dopo aver firmato un contratto discografico con la Hollywood Records nel 2012, ha pubblicato il suo singolo di debutto, quindi non più in modo indipendente, che prende il titolo di Replay. Penso che Zendaya rappresenti la next generation attoriale che vogliamo, quindi questo modo di interpretare è molto cangiante nei ruoli, praticamente passare da MJ a Marie, in Malcom & Marie, mostra un abisso di differenza tra i due personaggi e le riesce a colmarlo perfettamente. E sa essere sempre perfettamente pulita e dinamica nelle performance, come dicevamo in The Greatest Showman, dove interpreta questa circense che poi si innamora dell'uomo d'affari che è interpretato da Zac Efron, che io ho rivalutato tantissimo soprattutto per le ultime pellicole che è andata a fare e delle volte devo ammettere che soprattutto da parte dell'Italia perché gli Stati Uniti magari sanno del valore effettivo di Zac Efron, lo viene sminuito soprattutto dalla gran parte della gente. Eppure può essere una scheggia impazzita proprio come è il personaggio di Marie di cui parlavamo ed è un ruolo bellissimo, sempre sotto la regia di Levinson, come dicevamo, che è anche regista della serie, regista, produttore, direttore della serie Euphoria. Io quello che voglio dire su Zendaya è che bisogna fidarsi di lei perché sicuramente sarà una di quelle attrisi che vedremo come pluripremiata all'interno del contesto mondiale degli attori. Non ci vorrà molto, poca pazienza e vedrete come toccherà le stelle. Revry the star cantava lei. E beh, credo che farà sicuramente la storia di questo mestiere. L'ultima cosa che voglio dire prima di chiudere questo podcast è che questa è la biografia di Zendaya ed è nata nel 1996. Questo dovrebbe far pensare che dare possibilità ai giovani, anche non stereotipandoli, giovani attori intendo, non stereotipandoli perché hanno fatto produzioni Disney negli ultimi anni e credendo che sappiano fare solo quello, Zendaya ha dimostrato tutt'altro, ha studiato a un Shakespeare Theater a Oakland per quanto riguarda la sua carriera, tra l'altro una scuola gestita anche dalla madre dal punto di vista musicale. Bisogna dare speranza e possibilità ai giovani, non facendoli diventare degli stereotipi soltanto perché hanno avuto dei ruoli all'interno di commediuole. Come dice proprio il film Malcolm & Marie, prima di arrivare a scrivere un grande spettacolo, prima di arrivare a un grande provino, c'è bisogno di studiare, di lavorare e di lavorare tanto, passando dalle stupidità, dalle commediuole e dalle fribolezze romantiche. Quindi fidatevi nuovamente di persone come Zendaya che sono partite dalla Disney e sono diventate dei performer drammatici eccezionali. Grazie.